Siamo in compagnia di Brian O'Day, benvenuto nella famiglia Rosso-Blu. Sei molto giovane, classe 2002, tra pochi giorni compirai 19 anni, però si parla un gran bene di te, la società del Crotone ha puntato su Brian. Sì, è vero e tra pochi giorni, come appunto hai detto, faccio il compleanno, faccio il 19 anni e sì, ho molte aspettative quest'anno che sono qua e sono contento anche di essere qua e spero di fare, se sono pronto a fare tutto e dare il massimo in campo, sia a campo che fuori e fare il bene per la squadra. Abbiamo osservato già in occasione dell'amichevole qualche tua giocata. Mi piace giocare con la palla tra i piedi e, come hai detto, stare largo, accentrarmi oppure anche stare in mezzo a giocare e mi diverto così e quest'anno spero di mostrare le mie qualità in campo e fare il massimo. Ovviamente avrei avuto modo di conoscere i giocatori, mister, che impressioni hai avuto in questi primi giorni. No, ho avuto un'impressione molto, cioè, positiva, cioè nel senso un buon gruppo, bravi ragazzi, molti giovani come me e con l'unico obiettivo quello di fare bene quest'anno, quindi siamo tutti pronti e non vediamo l'ora di scendere in campo assieme a me per fare il massimo per questa squadra e questi colori e speriamo che ci sia un buon anno quest'anno e sono sicuro che lo faremo. Per chiudere, un saluto ai tuoi nuovi tifosi? Certo, ciao a tutti, un abbraccio a tutti e forte sempre squadra!